Sono già donatore da molti anni e quindi la ritengo una necessità, quasi un dovere, un impegno civile fondamentale perché c'è sempre bisogno di sangue e quindi ho appoggiato questa campagna che non è soltanto volta a sensibilizzare i ragazzi sulla donazione ma anche riconosce con il concorso un premio, quindi stimola anche la creatività e la fantasia dei giovani e ogni volta che si punta su di loro, sulle possibilità che hanno di esprimere le loro idee, la loro creatività non deludono mai.